L'antico villaggio di Kormakitis rappresenta l'unica enclave cristiana sopravvissuta all'invasione turca della parte settentrionale dell'isola di Cipro. Qui vivono tre suori francescani del Sacro Cuore, che nonostante l'arrivo della mezzaluna non hanno mai rinunciato. La campana della chiesa di San Giorgio è l'unica che dal 1974 non ha mai smesso di suonare a Cipro Nord. Nel convento vivono ancora Suor Bernadette, Suor Piera e Suor Pierpaola, tutte alle soglie degli 80 anni. All'epoca della guerra si trovavano nella parte greca, ma incuranti del pericolo scessero di tornare fra i turchi, perché non potevano lasciare la popolazione cristiana in balia degli invasori musulmani. Da allora la convivenza non è sempre stata facile, ma le Suore hanno saputo trovare un modus vivendi con gli occupanti. Ai Maroniti è permesso di celebrare la messa liberamente, e a volte le Suore curano anche i soldati turchi distanza nelle caserme tutt'attorno al villaggio. Negli ultimi anni, per la verità, il villaggio è tornato a ripopolarsi. Con l'apertura dei confini nel 2006, qualche famiglia cristiana fuggita al tempo della guerra fa ritorno per il fine settimana o per l'estate. Le Suore iniziano a preoccuparsi per il futuro, e si domandano che ne sarà del convento dopo di loro. Ma non c'è tempo per pensare all'avvenire, e a chi chiede loro che ne sarà del domani, le Suore rispondono Serafiche, ci penseranno la Provvidenza e San Giorgio.